Sirene Suite E' una composizione dedicata al porto di Salerno nell'ambito del progetto Porto Aperto 2019. L'idea di partenza di questa composizione è quella di costruire una partitura inserendo i suoni ambientali tipici di un luogo con quelli musicali veri e propri. La fruizione di questa composizione è multifocale. Ogni partecipante si può collocare in un punto qualsiasi dello spazio e interagire con una sorgente sonora a sua scelta. Il porto si trasforma in tal maniera come una sorta di scatola sonora che accoglie, riconosce i segnali del luogo e li colloca intenzionalmente in una partitura direi umanamente organizzata, a diversa condizione di produzione, ascolto e partecipazione del pubblico. La cadenza conclusiva invece è affidata al rimortiatore Genova del porto di Salerno, il quale realizza una micro performance audiovisuale. Da un lato un suono molto prolungato che viene emesso mentre il rimortiatore si allontana e poi contemporaneamente la fuoriuscita di due cascate d'acqua lentamente si allontanano e danno il segno che la cadenza è avvenuta e la performance è terminata. Grazie a tutti.